Il riscaldamento globale, la decrescita, il rischio che la scarsità di risorse come acqua e fonti energetiche provoquino nel medio periodo disastri e guerre. C'è tutto questo nella enciclica verde di Papa Francesco intitolata Laudato Si sulla cura della Casa Comune, che il Vaticano pubblicherà il 18 giugno ma che l'Espresso Online ha anticipato scatenando l'irritazione dei Sacri Palazzi. 192 pagine, 6 capitoli, 2 preghiere conclusive, una modificata nella versione finale. Perché il testo anticipato dal vaticanista Sandro Magister non è quello definitivo, spiegano dalla sala stampa della Santa Sede, ma è solamente una bozza. La mossa comunque viene letta nel Palazzo Apostolico come un'azione di disturbo ispirata dal desiderio di te potenziare il messaggio sociale del Pontefice. La pubblicazione di un testo su cui vigeva l'embargo rappresenta un'iniziativa scorretta, fonte di forte disagio per moltissimi colleghi giornalisti e di grave turbamento del buon servizio di questa sala stampa, afferma in una durissima nota il portavoce Vaticano, specificando che Magister è stato espulso dalla sala stampa della Santa Sede a tempo indeterminato. Insomma, l'enciclica di Papa Bergoglio, la seconda del suo pontificato, ma la prima firmata da lui soltanto, la luma in fide infatti era stata firmata a quattro mani con Benedetto XVI, fa già discutere.